Una vicenda terribile arriva dal Messico, nella città di San Luis Potosí. Una bambina di soli 3 anni, Camila Roxana Martinez, è stata dichiarata morta e durante il suo funerale si è svegliata nella bara. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità mediche. Secondo quanto informano i media locali, la bambina, dopo essere stata visitata da diversi dottori, è stata dichiarata erroneamente morta. Quando la madre e la nonna si sono accorte che Camila respirava all'interno della bara in maniera affannata, hanno chiamato subito i soccorsi, ma la bimba è purtroppo morta poco prima dell'arrivo in ospedale. Grazie per la visione!